io mi auguro che chimicazzo sia un mezzo per scoprire incuriosendosi no che cosa è la chimica che è questa frase fatta un po brutta è tutto intorno a noi però è la verità c'è non solo è tutto intorno a noi è dentro di noi siamo noi è quello che respiriamo quello che mangiamo quello che speriamo come esseri umani i nostri sensi sono chimica il nostro pensiero è chimica l'elettronica quindi anche la tecnologia le prospettive future per l'umanità affonderanno le loro radici nella chimica quindi chimicazzo è un progetto che serve a emozionare con la chimica perché volevo mostrare che quando riesce a fare una reazione chimica che trasforma degli oli che noi normalmente mangiamo in dei carburanti puoi farci andare anche avanti un motore un motore a scoppio quindi per me è interessante far capire che non c'è veramente differenza tra un atomo di carbonio che ti mangi è un atomo di carbonio che viene estratto dal petrolio dal sottosuolo l'atomo di carbonio è sempre un atomo di carbonio poi a seconda di come si lega o come è legato viene o metabolizzato dal nostro corpo oppure bruciato dentro un motore a combustione ma sempre un atomo di carbonio è la cifra stilistica del mio canale è cioè la chimicazza che faccio io la non è altro che reazioni e atomi che si appaiano senza un vero motivo ma semplicemente perché la reazione può avvenire e quindi avviene io sul visual punto poco cioè l'hai visto i miei video sono molto spartani io ho un aspetto tutt'altro che curato a partire dal mio smagliante sorriso a finire dalla mia capigliatura gestita veramente male però è così cioè il mio stile riflette la materia che voglio esternare